ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono a casa perché vi voglio parlare di una cosa una cosa che mi è successa sono un po' disperato sinceramente per questa cosa è successa che alla fine non è neanche colpa mia non so neanche di chi è la colpa comunque prima di parlarne mandiamo la sigla ecco qui tornato ragazzi sono disperato come dicevo all'inizio perché perché il mio profilo personale e il profilo test di moto è stato praticamente disabilitato di conseguenza anche il profilo instagram test di moto e il mio profilo personale è stato disabilitato sinceramente perché non lo so come se io avessi violato le linee guida della community come se avessi pubblicato qualcosa di hot o qualcosa di horror oppure abbia risposto ho commentato a qualcuno in maniera non corretta questo però non è vero vi spiego come è andata praticamente prendo il telefono come fanno tutti apro facebook vedo delle notifiche mi appare che una certa persona è un nome un nome straniero proprio cognome italiano accettato la mia richiesta ed amicizia come se io avessi richiesto l'amicizia a questa persona però io questa persona non la conosco infatti possono da vedere con il profilo facebook della mia compagna questa persona sta in america è una persona di colore un profilo normale comunque c'è sulle sue foto che la sua storia c'è già tutto non so se è colpa di questa persona sinceramente apro instagram apro instagram nel profilo instagram e testa di moto mi appare 16 persone che mi seguivano vado a vedere che sono queste persone e vedo che queste persone sono tutte queste donne nude e che di solito ti seguono per mandarti link webcam e queste cose qua tutte queste spam che sicuramente anche voi conoscete non ci faccio più in tanto caso detto ero macchina torna a casa poi ci guardo e comincia a bloccare queste persone per evitare problemi neanche il finito di pensare a questa cosa mi arriva una mail a facebook e il tuo account è stato disabilitato ho provato in tutti i modi ho provato con l'assistenza facebook ho provato con l'assistenza instagram ho provato tutti i modi a un certo punto sono riuscito a contattare tra virgolette l'assistenza facebook cioè avevo fatto la richiesta mi era arrivata una mail che io se secondo me era un errore che ero stato disabilitato potevo fare richiesta di riabilitazione faccio questa richiesta di riabilitazione mi chiede una carta d'identità mi chiede tutti i dati per essere sicuro che sia io mi avevo una mail la ringrazia per aver mandato i suoi dati le faremo sapere con una mail per la conferma se la riabilitazione sarà andata a buon fine tempo cinque minuti mi arriva la mail che il mio profilo non è idoneo a essere disabilitato e che sarà cancellato da 30 giorni dall'arrivo di questa di questa mail al che riprovo a fare la procedura di richiesta di riabilitazione arriva fino a un certo punto e poi il telefono mi dice senza connessione come se non avessi più connessione e non riesco più in alcun modo a contattare sia facebook che instagram ho fatto i moduli ho fatto tutto quello che dovevo fare non c'è il verso di contattarli vi sto dicendo questo perché mi è rimasto l'unico canale per poter parlare con chi mi segue ma anche per chi non mi segue e vedrà questo video se in qualche modo qualcuno mi può dare una mano se conosce qualcuno anche affidandomi a qualche professionista perché sono veramente disperato sia facebook che avevo un sacco di amici ma avevo una storia di tantissimi anni sono da 2005 che sono iscritto a facebook ho tantissime foto di tutti i miei amici di mio figlio quando era piccolino e anche il profilo testa di moto su instagram dove avevo 13 mila follower e stavo ultimamente stavo anche abbastanza crescendo però non ho più niente non mi è rimasto più niente quindi vi chiedo cortesemente se qualcuno conosce oppure mi sa dare una mano vi lascio qui in descrizione la mail la mia mail per potermi iscrivere in tal caso se c'è bisogno ci lasciamo il numero di telefono oppure potete contattarmi su instagram perché avevo un profilo che stavo usando avevo creato per fare le foto metterci le foto che ho fatto con la macchina fotografica l'ho modificato ci ho messo test di moto prov ve lo lascio qui in descrizione anche quello quindi ragazzi io vi chiedo un aiuto se in qualche modo sapete aiutarmi per riuscire in qualche modo a recuperare il profilo sia facebook che anche instagram perché sono veramente disperato sono cinque anni che provo a crescere su instagram ma non perché voglio lavorare con instagram perché per lavorare con instagram bisogna avere centinaia né migliaia di follower 13 mila follower si sono tanti ma non sono poi così tanti per poter lavorare e che comunque mi dispiace tutte le foto che avevo tutti i video che avevo tutte le sponsorizzazioni che avevo fatto il lavoro che avevo fatto per sponsorizzare alcune aziende che mi hanno dato fiducia sul mio profilo vi ringrazierò veramente tanto se qualcuno mi dà una mano in questo senso se mi fa sapere se conosce qualcuno anche un'agenzia professionale da pagare per vedere se si riesca a riattivare questo profilo va bene ragazzi è stato scusate se questo video sono qui in casa quindi non vado in moto non vado in giro in moto devo montare ancora il video di l'eternal city di roma ma sono veramente demoralizzato non c'ho più vuoi ne fa niente sono veramente demoralizzato comunque ragazzi vi ringrazio ancora per avermi seguito se volete aiutarmi ancora a crescere sul mio canale mi raccomando iscrivetevi e lasciate un mi piace al video e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video un abbraccio buona strada